Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla variante di Valico in direzione Bologna ralentamenti per materiali dispersi tra Badia e il Bivio A1 variante. Sulla A1 in direzione Bologna è chiuso il transito e mezzi pesanti tra il Bivio per la variante di Valico e Aglio. Sulla Fipili chiusa per lavori l'uscita di Livorno Stagno in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. La viabilità cittadina tra Firenze e Scandicci è chiusa per il crollo di un muro via delle Bagnese in entrambe le direzioni presso via della Greve. Infine ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali, catene o gomme termiche per la propria vettura. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!